La prima delle ultime cinque gare di campionato si avvicina ed il Catania prosegue la preparazione a Torre delle Grifo, consapevole che il posticipo di lunedì alle 20.45 al Massimino riveste un'importanza enorme ai fini della classifica. I rossazzurri sono padroni del proprio destino ma Lucarelli dovrà essere brava ad evitare che l'entusiasmo possa ridurre la concentrazione. Non sarà disponibile Tedeschi squalificato per un turno dal giudice sportivo. Sul fronte infortunati sono ancora auto e caccavalle Rossetti mentre sono da valutare le condizioni di fornito. Il tecnico livornese potrebbe confermare a grandi linee la formazione che ha travolto Paganese e Catanzaro sebbene anche che è stato chiamato dalla panchina abbia dato il suo contributo a conferma dell'ottimo stato di salute mentale e fisico delle gruppo. Si allena pure le Trapani in vista della trasferta contro il Francavilla. Calori riavrà a disposizione Drudi e Silvestri che hanno scontato la squalifica. Unica assente sarà Ferretti che continua il suo programma di recupero personalizzato. Un girone di ritorno travolgente, quello dei Granata che hanno recuperato 12 punti alle Lecce nel segno di Evacuo. Autore di gol decisivi alla lavoro anche le Siracusa nonostante domenica osserverà un turno di riposo da verificare le condizioni di Turati che a Lecce non è sceso in campo per un problema fisico. Gli Aretusei domenica 15 aprile giocheranno a Catanzaro. Archiviata la vittoria con il Leffondi, la Sicula Leonzi è proiettata la trasferta di Caserta con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in Nepalio nella speranza di agguantare i play-off. Diana non potrà contare sullo squalificato De Rossi. Dopo l'amara retrocessione in Serie D arrivano per l'Akragas anche provvedimenti disciplinari conseguenti alla gara persa con il Francavilla. Inibiti fino al 2 maggio il general manager Licata, stessa sorte per il DS Russello fino al 17 aprile. Squalificati per una giornata Sanseverino e Scrui, l'Akragas il prossimo turno sarà di scena ad Andria.